Siamo in compagnia di Marcus Brown per commentare lo stato di salute della squadra della Day Optical Virtus.Mask Basket Molfetta, reduce da qualche vittoria consecutiva. Marcus, lo stato di salute della squadra e il morale? Sì, mi sento che siamo in un buon spirito adesso. Abbiamo giocato un po' in un po' se stiamo cliccando su la squadra dell'offense e la defense. Abbiamo scoperto quelli che vogliamo giocare. Penso che stiamo concentrati su questo gioco di correo e abbiamo un buon piatto. Questa è la prima parte in Italia. Vogliamo parlare e commentare il tuo approccio alla pallacanestro italiana? Sì, questa è una liga molto forte, hanno dei giocatori molto buoni, ragazzi che hanno giocato bene insieme, buoni team orchestrati, guadagnano buoni schemi sulla defensa e tutti vogliono venire e approfondire ogni gioco fortemente. Grazie a tutti.